Cosa sbaglia? L'appoggio dietro? Subito la palla è presa dai giocatori miliani. Peccato, stavamo facendo una rimonta su Chiricò il portiere, poi è entrato un po' centrale Chiricò, bisognava piazzarla sull'altro palo, interviene l'arbitro, attenzione, giallo, rosso per l'Attanzio, espulsione diretta per l'Attanzio, molto nervosismo, adesso affiora sulla pelle dei giocatori. Vengono stare calmi, calmi, stiamo calmi! Espulso Riccardo l'Attanzio, Vigo resta in dieci, giallo!